Ciao a tutti veli e bruti, ben ritrovati con Snakewood dopo un attimino di tempo perché ho perso il salvataggio precedente perché sono un coglione quindi siamo qui in questa grotta strana e visto che sarà un episodio, come dire, da manicomio ho messo questa Suka Vabbè, niente, allora, cosa ho messo? Ho messo Abubis, ho messo Flash, quindi posso vedere anche nella caverna No, aspetta, lì c'è un passato prima Eh? Ok Destiny Bond Insegnarla o no? Porca puttana, sì Porca Sì, Mario Vedi che fai gli occhiettini così ti cattono Ma fan Eh? Guarda un sacco What the fuck? Madonna Ok Ok Dobbiamo catturarlo E lo chiamo Cushi Oh, look, è un ginger Vai con Flash Allora, no Via Aspetta Ehi Oh Cosa? Masterful versione afro? No 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 Mi cazzo Mi cazzo si è tu Mi cazzo si è tu Mi cazzo si è tu No 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 Madonna Cazzo si è tu No No Non ancora voi Quello coglioni Oh Ehi Perché la musica è cambiata Torniamo indietro Ancora 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 No 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 Quale scala era che non mi ricordo No No No, non è questa Dio, Gesù Pegli per il culo No, aspetta C'è lì in parte Oddio Oddio Ok Wait What? Non è l'isola dell'episodio 6 No, non è l'isola dell'episodio 8 questa Perché c'è una porta sospesa lì in alto Faffanculo va Due scale Save No La mistero slide No, no, lo strumento che decidera bene MT3C che cos'è Ottimo Sì No E io ho 11 Pokémon Then I cut them up and glue the pieces together to make one Cosa? No No, 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 no Fine ignobile per l'OTAD Gesù Ok Oh Magic stars Ok, allora Cioè, andiamo Ok I refuse to look at you I refuse to look at you Ma che cazzo Orco Dino Sì, non rompere le balle Asimov Sì, sì Bla, bla, bla Sono in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Perché? Deadly 7 Ma sono 10 Sì Ok Ok, me ne vado To Porca troia To, vai Blizzard Ok Ok Death is my Pokémon Vai Muori, 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 muori Splam Kenchuku ancora Vedo io il Kenchuku Gesù me li ha curati E 1 Yeah E 2 Yeah E 3 Ah, no Perfetto Cadre l'amore del cielo Sì Sembra un lavoro per fungo Sky uppercut Everything El ram El ram shaker Cos'è? Dio, è un tumore È normale, è psico Sei stronzo Sì, 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 sì Eh, manca l'ultimo No, scherzavo Ne mancano ancora 2 Ma gli accurati Sono contro Asimov Alleluia Uff Fuca E 1 E 2 E 3 Cazzo Li hai vessati Cazzo 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 Perfetto E E Boom Oh Splendid Punto 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 Ah, this was fun No, this was a fun cake party Shall we go then? Sì Li sto rincontrando tutti Mi mancavano quelli dell'inquisizione Guarda Tantissimo Allora Ah E' un pokemon Electricone Ginger Ma sai che Quasi quasi Ciao merda Cos'hai Arena trap E poi Teleport Che fai schifo Ok 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 No No I've been waiting To do this for a long time Now Paraparapam Uh, ha un Sorrock Sarà sicuramente un problema Ciao Ok Ok Direi che per oggi è tutto Quindi esploriamo la città la prossima puntata Ciao Belli Condividete Mettete mi piace Ciao Ciao